oggi sono appena andato in posto a spedire un pacco perché dovevo c'ho venduto il telefono allora l'ho spedito sono andato fino in posto a farlo è stata una cosa noiosissima e lunghissima visto che scartò via di qua, firma di là, scrivi data, destinata tutto un po' ora sto tornando e ho fame penso che vorrei rendervi partecipato di una cosa che ho fatto istintivamente il 29 perché mi sto arrivando a aggiungere nel vecchio blog probabilmente mi arriva cioè non è che mi arriva una mail l'ho sbagliato io perché guardo le storie sui scrivimi e capire di finire sulla pagina in autodog e per niente c'è scritto perché io ho seguito alle 6 di sera sul sito di The Last of Us a il 26 l'outbreak day di The Last of Us 2 qui facevano cioè rilasciavano contenuti di The Last of Us tipo di sticker per i message per l'iphone poster t-shirt altra roba lo sfondo per la play gli avatar disco in vinile con la colonna sonora e allora cosa ho fatto sono andato a vedere un po' tutto visto i prezzi e ho detto magari qualcosa me lo compro poi vedo un altro giorno che fa la storia ultimo giorno per la special edition del posto di autobreak quindi che volente serve durata 3 giorni dal 26 al 29 io cosa ho fatto istintivamente senza guardare prezzi senza guardare niente mi sono buttato lì e l'ho comprata perché è una cosa che ci teneva veramente mentre non fate caso sto a prendere la porta e l'ho comprata e devo dire che ne sono contento perché è un poster bellissimo e comunque ho speso la bellezza di 64 dollari però devo dire che sono fiero di averli spesi perché è un poster bellissimo e del mio gioco preferito quindi soprattutto non li sono limitata quindi non avranno tutti e la mica pecca è che mi arriva a gennaio perché in giornale li spediscono a gennaio quindi allora adesso sto andando a mangiare da mia nonna o il cane stamattina presto è scattato un antifurto mi sono preso un infarto niente sono svegliato di colpo mi sono fatto male all'occhio oggi un male che nell'occhio quindi boh oggi proverò se da tempo a fare un test per streamare su twitch quindi se tutto va bene potrei fare più almeno una streaming ogni due settimane ogni settimana quindi link in descrizione per twitch vi aggiornerò adesso vado a mangiare poi torno a casa per provare forza la dison 4 e altri giochi visto che mi sono riapponato game pass e con game pass tra l'altro lo consiglio tutti quelli che hanno xbox si hanno i giochi esclusivi xbox al day one che è il top secondo me è una cosa che sony è veramente da invidiare xbox per quanto io sia un sonaro per eccellenza la situazione è questa ho chiamato il centro assistenza di gamestop che ho fatto l'assicurazione per la mia vecchia play 4 che ho comprato a natale 2014 poco prima di natale 2014 tipo sono stato un mezz'ora tre quarti d'ora al telefono a aspettare che qualcuno mi contattasse mi risponde uno subito li parlo non capisce una sega perfetto poi capisce tutto mi fa mi lasci il nome e cognome gli lascio il nome e cognome mi lascio il il telefono mi fa perfetto ora la contatterà qualcuno nella giornata cioè non dice nel giro di due tre ore no nella giornata potrebbe chiamarmi anche beh considero che la loro assistenza chiude alle 6 adesso sono quasi le 3 cioè se non mi contattento tre ore solo perché la mia play 4 mi dà problemi perché quella vecchia perché mi dà problemi perché non mi legge più i dischi non me li sputa più fuori scalda cioè senti l'evento che vanno vabbè ci avrò fatto non so quante ore di gioco perché c'era dal 2014 io che sono un nerd pesante gioco come non so cosa l'ho fatto fuori e ne avrò distrutta niente a forza di giocarci però ci trarrei a farmela riparare cioè non voglio farla sostituirlo comunque è sempre la play 4 prima gen avevo interrotto la clip per sbaglio perché avevo messo il tasto sul letto c'è il dito sul tasto volume cioè questa è la mia play 4 quella di prima gen bianca io odoro la play bianca infatti ho preso la play 4 pro pure bianca quindi spero vada tutto bene sinceramente non sono molto non mi fido tantissimo di tutto ciò che sta accadendo vabbè vi aggiornerò allora la situazione questa mi hanno appena telefonato i nuovi di attivo la protezione di gamestop mi ha detto sappiamo che c'è chi ha contattato per vedo li faccio sì mi dia il nome di contratto glielo dato nome cognome sì mi ha chiesto qual era il modello della console tutto se corrispondeva quello che aveva un loro tutto posto gli ho dato la data dell'acquisto che era corrispondeva quello che avevano fa perfetto ora faccio la denuncia online e poi non la ricontatteremo ma che cacchio questo mi fa arrabbiare perché scusate ho chiamato una volta mi ha detto la faremo ricontattare cioè se quello lì mi dice direttamente faccio la denuncia online e facevo prima invece no ho dovuto rifare la denuncia c'è dovuto dire tutto al telefono per poi farmi sentire che devo farla online se sapevo che dovevo fare subito online la facevo subito online però il problema che sul sul volantino questo coso qua c'era scritto che dovevo telefonare in qualsiasi caso dovevo telefonare al numero ma ditemi voi no ma veramente è allucinante quindi adesso boh proverò poi più tardi a fare la denuncia online e vedrò se mi ricontatteranno in due o tre giorni se non sbaglio ho detto quindi ce ne vorrà di tempo e visto che ho tipo quattro mesi no che cacchio dico adesso siamo ottobre due mesi e qualcosa di garanzia attiva meglio che mi spiccio nice raga nice è così che si fa mercoledì sto iniziando a vlogare alle 8 di sera perché mi sono riuscito a rifarlo no sì e no però ho avuto un po da fare con continuare a provare con quelli gamestop per l'assicurazione cambiare l'orario dei biglietti la freccia rossa perché ho sbagliato data perché parto sabato a rifare i biglietti visto che non si potevano cambiare la data e poi mi sono distratto con la tv e ho continuato poi anche a riprovo con quelli gamestop perché non mi mandano una mail di conferma quindi non posso confermarli che voglio l'assistenza quindi loro non mi non mi ricontattano perfetto adesso lo riproverò giovenì allora oggi non so bene cosa farò per le cose sono tutto irritato oggi non so bene cosa farò adesso andrò a sistemare un po una stanza di casa mia che sto ristrutturando poi spero di riuscire a cena con una mia amica stasera al sushi però non è detto però voglio farvi vedere cosa ho fatto stanotte che non avevo sonno ho costruito questo drago in legno che avevo qua da un mesetto o due forse anche di più e devo dire che mi è piaciuto un sacco ditemi anche voi se è piaciuto io comunque se vi interessa dove l'ho comprato l'ho comprato al fiera fai la cosa giusta a mirano che è stata non ne ho idea perfetto l'ho pagato una cosa come tipo 15 euro però secondo me mi piace veramente adesso andrò a vedere questa stanza quando finire di ristrutturarla e boh vi farò sapere bella raga la situazione è questa adesso sto per uscire tra poco esco per andare al sushi con questa mia amica qua ho ristrutturato la stanza tipo la vedrete se continuerò a fare vlog all'incirca tra un decennio più o meno sarà pronta e dico questo perché è da cinque anni che ci lavoro ci ho messo io e mia madre quindi andiamo a rilento perché io aspetto lei lei aspetta me lei lavora io lavoro logicamente però ci abbiamo messo tipo un anno per far dipingere la stanza cioè per dipingere la stanza ci abbiamo messo un anno e mezzo per far rimettere il pavimento ci abbiamo messo una cosa come un anno mettere due scaffali dentro quindi vi dico ci vorrà tempo 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 però boh vi farò sapere mentre ho fatto 11 chiamate a mia madre che non ha risposto logicamente perché voglio io che mi scriviti nei commenti se anche vostra madre non risponde mai al telefono quando la chiamate che sia a qualsiasi ora del giorno della notte ora mi preparo uscire vado perché non ce la faccio più ad aspettare niente siamo nel bui perfetto abbiamo cenato quanto abbiamo quanto abbiamo mangiato troppo non abbiamo contato quanto abbiamo speso abbiamo spera bene si ristoratori quanto avremmo troppo troppo poco il giusto location 10 e dopo questa tracciata allucinante lei e mary ciao 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 sono luis allegria allegria no con questo no lei la vedrete sabato e forse anche domani wow andiamo a vedere denan che dovrei vederlo già settimana scorsa perché ho visto i puliti della settimana scorsa yeah vederdì allora adesso sto preparando le ultime cose per partire domani che vado a games week con mary non esco alla fine perché ho troppe cose da fare e poi mary ho comprato i biglietti per lucca perché sarò anche a lucca comics dall'1 al 4 e niente adesso sto preparando sto sistemando camera anche bene non posso partire con un macello del genere quindi ci vedremo subito domani perché sono stacco non ci vediamo oggi che giorno oggi è andata sabato no no non guardi i miei vlog sabati oggi è sabati oggi è sabati oggi è sabati siamo appena arrivati a Milano C3 adesso ci dirigevamo verso il games week cioè in verità verso la metropolitana che poi ci può stare al games week verso il bar proprio al bar ah si ho cambiato idea va bene non ci vuole di stare in giro ma c'è troppo casino ci vediamo un po' in verso la fiera a dopo ciao 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 covid